buongiorno ragazzi oggi voglio farvi vedere la nuova pinzettina per mettere e togliere microcatta si tratta dell'articolo st 996 b e funziona in questa maniera ovviamente dobbiamo mettere il microcatta sul nylon d'accordo e qui con questa pinza si riescano a schiacciare molto bene come potete vedere questa pinza è dotata anche di una fessura con un dentino e praticamente mettendo dopo all'interno della fessura il microcatta si riesce a schiacciare quindi anche a rimuovere